Oggi è una giornata importante perché dopo più di un anno di lavoro siamo riusciti a far partire questo ITS legato all'aerospazio. Noi abbiamo fortemente creduto in questo progetto e la Regione Piemonte stessa, perché proprio grazie alla Regione noi siamo riusciti ad avere sul nostro territorio questo corso di diploma pari all'università, un corso universitario. Quindi è molto importante, Alenia svolge un ruolo determinante perché assicura 600 ore di docenza oltre che 600 ore di accoglimento in stage e quindi in questo modo noi riusciamo ad affiancare quello che è l'insegnamento teorico che verrà impartito anche dall'Università del Piemonte Orientale, dal Politecnico di Torino e da altre docenze, dicevo riusciremo ad abbinare quindi la parte teorica con la parte pratica, che è proprio il tassello che mancava nel nostro mondo scolastico.